Giusto per la cronaca, risponso della gita? Non rilascio di gerarmi Distruzione totale E la consiglia il Max? No eh? Sono troppe per lui tutti questi chilometri E' come l'attraversata di Brunate Bellagio Ho perso gli occhiali Max Bene, vi saluto tutti E alla prossima E alla prossima Dall'alpepaglio E dalle carriette degli uccellini Che ci sono sugli alberi Ciao a tutti Beh e brutti